Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento, capirai Lui è il gatto e io la volpe Stiamo in società Di noi ti puoi fidare Vuoi parlarci dei tuoi problemi? Te e i tuoi tuoi I migliori in questo campo siamo noi È una vita specializzata Fai un contatto e vedrai Che non diventerai Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai Noi sapremo sfruttare le tue qualità Ci sono quattro monete e ti scriviamo il concorso Per la celebrità Non vedi che è un vero affare Non perdere l'occasione Se no poi te ne prenderai Non capita tutti i giorni Di avere due consulenti E due interessari Si fanno un quattro per te Avanti non perdere tempo Ti rimani qua È un normale contratto È una formale E poi ci c'è di Totte diretti E noi faremo di voi Un di voi Dai Parti Andi Non vedi che è un vero cane Non prende le bocca Se non vuoi Te ne prenderai Non capita a tutti i giorni Di avere due consumanti Due impresari Che si fanno in quarta per te Quarta per te Ma dove vai? Che fortuna che ho avuto ad incontrare in noi Lui è il capo e di una volta Stiamo in società Noi Poe per la Noi Poe per la Noi Poe per la Noi 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 Grazie a tutti.